ben ragazzi sono fani e ormai avete imparato a conoscermi e come avete imparato a conoscere il mio trapano avvitatore bosch dsb 18v siamo arrivati alla fine del mio percorso con bosch diciamo con il test su questo trapano che è durato quattro settimane io per quattro settimane l'ho messo sotto pressione l'ho provato l'ho testato voi avete visto nei video precedenti nei momenti diciamo salienti degli estratti del mio lavoro poi io comunque l'ho usato l'ho utilizzato l'ho l'ho provato per darvi le mie impressioni che siano buone o cattive che siano devo dire che io ovviamente avevo grandi aspettative da bosch perché appunto essendo un marchio premium ci si aspetta sempre di avere dei prodotti di qualità e con questo trapano avvitatore non si è sventita quindi ancora una volta bosch si è rivelata molto importante sul fatto della tecnologia della precisione dei suoi strumenti qui abbiamo appunto lo ripetiamo un trapano a 18 volt con le batterie pro core da 4 ampere quindi delle batterie veramente importanti ma dal peso incredibilmente ridotto ecco questo mi ha permesso di utilizzare il trapano in condizioni magari anche un pochino scomode ma senza mai affaticarmi perché è veramente è molto maneggevole e leggero quindi questo qua sicuramente un punto a favore mi è tornato molto utile il kickback control che sarebbe lo ripetiamo quel sistema che mi ferma immediatamente il trapano da solo in un'occasione mi è veramente tornato utile perché se no a quest'ora avevo il posto ingessato e appunto sia funzionando come avvitatore che come punta come perforatore come trapano percussione con un trapano solo possiamo fare mille lavori noi abbiamo un prodotto completo sia per un professionista che per uno vista esigente molto esigente quindi io vi lascio qui sotto il link in descrizione del trapano comunque c'è anche il link del sito ufficiale boccia dove potete andare a vedere le caratteristiche o comunque vi rimando agli altri video dove l'ho spiegato più nel dettaglio abbiamo fatto l'unbox e l'abbiamo provato questo è appunto il video conclusivo e la domanda che tutti vi farete sarà lo comprerei lo comprereste quello dire vi direi di comprarlo la risposta è sì compratelo se vi serve un trapano evitatore brushless una buona potenza e faccia di tutto questa è una buona scelta una buona occasione il pacchetto completo con due batterie è sicuramente la soluzione migliore da prendere e niente che altro dire è un ottimo prodotto sicuramente è un buon prodotto da non farsi scappare bene noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale e continuare a seguirmi alla prossima